Tra le strutture termali più rinomate dell'intera Campania ci sono le terme di Montesano sulla Marcellana che sorgono sul limitare del Vallo di Diano e si pongono come uno dei centri terapeutici più appetibili della penisola grazie al particolare mix tra cure all'avanguardia e antiche suggestioni di tipo naturalistico che rendono unica la zona. Sulla boscosa catena dei monti della Maddalena quindi si affacciano le terme di Montesano sulla Marcellana. L'attrezzata struttura gode dei benefici della sorgente termale di Santo Stefano e di una meravigliosa vista sul Vallo di Diano. Il tipo di acque è oligominerale fredda. Le patologie curate sono affezioni delle vie respiratorie, riniti ipertrofiche, faringolaringiti croniche, sinusiti croniche, otiti, bronchiti, artro-reumopatie, affezioni reumatiche, nevriti, radicoliti, osteoporosi e altre forme degenerative. Spondi d'artrosi, malattie dermatologiche, eczemi e malattie di ricambio. E i servizi offerti sono bagni, fanghi, cure idropiniche, inalazioni, aerosolterapia, irrigazioni e saune.